Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Jurassic World Evolution e sono molto contento di potervela portare, perlomeno si spera perché sto provando a registrare dopo la patch Allora, non facciamo andare avanti il gioco, fermi tutti, un secondo, anzi mettiamoci sulla controllo... Ah, grazie Ok, grazie, niente, stava commentando il ceratosauro Allora ragazzi, sto registrando questa puntata perché è stata messa una patch, ok? E si spera che adesso il gioco sia stabile, oh porca miseria maledetta, fermi tutti Sì, rimaniamo qua su questa, perché va avanti anche in quella schermata il gioco, così no sicuro Va bene ragazzi, giusto un minutino Se avete seguito il canale, ho pubblicato proprio ieri un vlog in cui dicevo che non riuscivo a registrare le puntate di questo gioco perché crashava in continuazione Hanno messo una patch, l'hanno messa e spero che adesso il problema sia risolto Lo scopriremo molto presto Se vedete questa puntata è stato risolto, se non la vedete non è stato risolto Ma se non vedete questa puntata perché ve lo sto dicendo? Non lo so Ma ricominciamo a giocare se non altro Allora, sì, passo dopo passo però Ah, un'altra cosa, scusate Noterete che il gioco, il mio parco, è leggermente più avanti di come l'abbiamo lasciato al termine della seconda puntata Questo perché io ho tentato di registrare, ok? Tentavo di fare pezzetto pezzetto Ma continuava a crashare E andando avanti un pochino per volta Un pochino per volta Sono andato avanti un'ora e mezza Un po' il gioco è andato avanti Alcune cose le ho fatte Volta per volta vi faccio il recap Affrontando però anche i problemi Come per esempio Il dinosauro morto Che adesso dobbiamo andare a ribeccare Dov'è? No, sbagliato, sbagliato Non è E' l'U... Transport team C'è un dinosauro morto Ma È sparito il dinosauro Sparito il dinosauro morto Davvero? Ma se lo sono mangiato Che è successo? Va bene Allora Comunque Ehm Ho fatto una Allora c'è Ah il cerotosauro sta mangi... Lo sta mangiando Ah ma lo sta uccidendo il cerotosauro Ecco perché Porca miseria Mannaggia Allora sì scusate ma questa è piuttosto importante E oltretutto Meglio se faccio un altro paio di strussiomimus Perché se li è mangiati il cerotosauro Dannazione Ok Ok ho capito Low health Ehi Dai Vabbè i ranger Posso già mandarli però O far curare l'oro Va bene Allora Questa è fatta Poi il team di trasporto invece Deve Prendere Questo e portarlo qui Poi rimuoverà il Il dinosauro morto Mannaggia la miseria Allora Questo è successo perché avevo creato un altro cerotosauro L'avevo liberato E Continuava a crashare il gioco E mi ero dimenticato di averlo fatto ragazzi Allora Adesso Ci sono alcuni dinosauri nuovi Come per esempio Ehm Dove sta? Dove sta? Dove sta? Vabbè Intanto rilasciamo questi Perdonatemi Perdonatemi Adesso Adesso vi rimetto a pari ragazzi Però capite che un attimo Mi si sono presentate un po' di cose che ho dovuto affrontare Comunque Con la varia ricerca Le missioni che ho affrontato nel pezzettino Che ho giocato alla fine una ventina di minuti Tutto quanti insieme Non sono andato avanti chissà quanto Ok Motivo per cui Non è che ci sia qualcosa di particolarmente diverso Da quello che avete visto Ho aumentato la parte della recinzione Dedicata al Adesso agli Ceratosauri Perché era molto scontento Era molto scontento E tentava di rompere la recinzione Ho scoperto che esiste questa cosa Quando i dinosauri non sono nell'ambiente che ritengono ideale Cominceranno a dare segni di instabilità E tenteranno di rompere la recinzione Per trasferirsi altrove D'accordo? Motivo per cui bisogna starci attenti al benessere dei dinosauri Poi Cercando i fossili eccetera 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 Ho raggiunto il 61% del genoma del Huayangosaurus Che è un dinosauro della famiglia degli stegosauri Insomma vedete questa forma un pochettino così Adesso per farvelo vedere più da vicino Perché giustamente ve lo siete perso Eccolo qui Non è bellissimo devo dire È un po' bruttino Però Però Insomma Non mi posso neanche lamentare Giusto? Allora Social sta bene anche da solo Health 87% Perché si è beccato un paio di schiaffi dal Dal ceratosauro Però Adesso sta piano piano curandosi eccetera I dinosauri sono abbastanza confortevoli Cioè Stanno abbastanza bene Adesso Il fatto è che In una maniera o nell'altra Bisogna comunque starci molto attenti Perché nel momento in cui Calano sotto un certo tipo di comfort Veramente succede il disastro Mi sono anche accorto che Il livello di comfort Vedete le due barre che sono rosse e blu Comincia a dare dei matto il dinosauro Quando arriva alla barra rossa E notate che il dinosauro più è grosso E carnivoro Per esempio L'edmontosauro non ce l'ha questa cosa Il comfort La barretta rossa è molto più piccola Il che vuol dire che Prima che dia di matto Ce ne vuole O ancora un pochettino Gli istruzio mimus è piccolissimo Mentre il triceratopo Per esempio Che è un dinosauro già più grande Comincia ad avere Una barra di comfort La parte rossa della barra di comfort Un pochettino più grande Il che vuol dire che Più faccio dinosauri grandi Più faccio dinosauri imponenti Più sarà costoso crearli Attireranno un sacco di visitatori Ovviamente Ma sarà più costoso crearli Più costoso mantenerli E più costoso farli stare bene E saranno anche più pericolosi Perché se cala il comfort Ovviamente staranno molto male Comunque La cosa positiva ragazzi È che finora il gioco Non ha crashato E vi garantisco Che Se l'avessi fatto Pre patch Questa cosa Non sarebbe andata così bene Per niente Un'altra cosa Che c'è da dire I rating Importante Ah ecco Sì Il rating dell'isola Ha superato il 3 Il che vuol dire Che ho sbloccato Isla muerta E tecnicamente Posso trasferirmi là Ok E le dinamiche del rating Sono di un certo tipo Dinosaur rating E facility rating Aspetta Allora Vabbè Insomma Crea altri due dinosauri In buona sostanza Si tratta di questo Allora Quindi Io farei Un altro Iangosaurus Perché no E Un altro Sturziumimus Così tanto per Perché tanto Sono piccolini Tranquilli Non costano tanto Non danno tanti problemi Eccetera eccetera Ora Poi Forse voi Non l'avrete visto Ma Ma Posso anche Creare natura Ok Posso creare Queste Parti qui E posso anche Rimuovere l'acqua Per esempio Posso rimuovere la foresta Un pochetto Tipo così Quindi Quindi Questa è una cosa Che è molto facilmente Gestibile Prima mi ci stavo Tagliando Senza motivo E invece È abbastanza facile Ora Nel mentre che Rilasciamo Questi due dinosauri Un'altra È pronto Giustamente Grazie E Continuiamo a dare un'occhiatina All'isola Ma adesso ragazzi Ci trasferiremo Su un'altra Su Isla Muerta Su Isla Muerta Benissimo 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 Oh Ah interessante Allora Le finanze vanno benissimo Allora ragazzi Quando raggiungi una certa reputazione Con certe divisioni Ci sono Vengono sbloccate delle cose D'accordo? E sono delle cose piuttosto utili Quindi è il caso di farle Adesso però Sono veramente troppo curioso ragazzi Quindi Perdonatemi Ma Credo che andrò Su Isla Muerta Siamo pronti? Vai Non so come funziona Ma sono tipo missioni diverse? Boh Lo scopriremo Spero che ci sia un tutorial Almeno anche per questo Oh Isla Isla Muerta 16 miglia a sud Di Isla Matanseros Oh Che è successo qua? Isla Muerta non possono spendere hard-earned dollars huddled in a bunker underground, will they? That must have been quite the storm. And it seems that bad weather is often a precursor to bad behavior from the dinosaurs. If you believe that everything is connected, the so-called butterfly effect, and I do believe it, by the way, then one small change is all it takes to create a series of toppling dominoes leading to rampaging dinosaurs. And they don't make a butterfly net big enough to stop them. I have a ranger team, but... ... ranger station c'è, but it needs power, so I'm going to make a small station like this part... No. Tipo da queste parti. Mi sa che è meglio. Perfetto. Se Dio vuole, dovrebbe essere a posto. Aspetta, vediamo un po'. Ah, bene. La stanno costruendo. È d'accordo. Oltretutto, dov'è lo shelter? Lo shelter è... Emergency shelter. Eh... Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience. Ok, allora, gli shelter sono i rifugi d'emergenza. Se i dinosauri scappano, chiamo l'allarme generale e tutte le persone vanno ai rifugi d'emergenza che, a quanto pare, quindi non... cioè, proteggono le persone e fanno sì che i dinosauri non le mangino. Praticamente. Quindi, allo stato attuale... Storm Defense Station ci proteggono dagli agenti atmosferici, secondo un principio che mi è un po' oscuro. Cioè, non so bene come facciano a proteggerti dalle tempeste e questi cosi, però, a quanto pare, lo fanno. Quindi, bene per loro. E ne farei anche un altro. Ah, Path Not Connected. Bene, bene, bene. Ehi. Ma per la miseria! Che diavolo è? Perché? Ma... Perché non riesco a fare... una strada verso sto cavolo di... forse il terreno? così? Forse è questo? Lo vediamo subito. No. Uno mi spiega che diavolo... Non capisco perché non posso fare la strada. Ok. Vabbè. Lo scopriamo subito. Forse è così? Forse è così? Niente. Che infinito stress. Forse l'ho fatta dalla parte sbagliata veramente? Ma... Vabbè. Solo da... Mi sa di sì. Solo che non ha senso questa cosa. Non ha molto senso, no. Ma perché non c'è abbastanza potenza? Come siamo messi con la potenza? Su. Questa è una cosa che non ho mai capito. Dove si vede il calcolo della potenza? Ed è... Cosa che è piuttosto utile, dannazione. Mo' ho fatto un'altra... Un'altra power station, ma... Mi sa tanto che non aveva senso farla lì, vero? Ah, ecco qual è il problema, dannazione. Vabbè. Poco male comunque, poco male. Eccola qua. Alimentato. Perfetto. Ora... Ranger... Andate a... Riparare questo. Questa. Poi... Io credo che sia il caso di fare un altro team di ranger. Questo team... Lo mando a riparare... Oh! Cavolo. Ah, e questo... Effettivamente... Ah no, ok. La sottostazione è fatta. Bene. E anche questa è riparata. Amon Creation Lab sta venendo riparato adesso. E dovremmo quasi esserci. Questa è riparata. E questa è riparata. Perfetto. Allora... Ah, ci sono due Amon Creation Lab. Vabbè, giusto. Uno per i carnivori, uno per gli erbivori. Molto giusto. Però c'è abbastanza spazio per loro. E onestamente non ne sono tanto sicuro. Eh. Ripuliamo un pochino qua, va. Ma... Perché con tutta probabilità... Dovremmo... Eh. Allora... Cominciamo ad avviare il parco. Perché senza i dinosauri non arriva nessuno. Quindi, dove facciamo i carnivori e dove facciamo gli erbivori? Gli erbivori li farei qui. Che c'è... più spazio. Perché semplicemente ne farò di più quando è la fine. Ah, ok. Ah! Il genoma che catturo, cioè che riesco... su cui riesco a lavorare, rimane. Molto bene. Allora, incubiamo Struzio Mimus e un Triceratopo. E facciamo subito, subito... Un paio di feeder per erbivori. E le facciamo davanti al posto... Alla Viewing Gallery, che è il posto da cui... Ehm... Gli... I visitatori guardano i dinosauri. E facciamo la stessa cosa a quest'altro, a Mond Operation Lab, facendo un Ceratosaurus. Ok? Ci vorrà un pochettino. Facciamo... Un... Enclosure in cui... Orca miseria, non ho i soldi. Carnivore feeder. 250.000, porca miseria. Vai. Struzio Mimus, l'abbiamo già visti. Oh, comunque ho speso tutti i soldi, dannazione. Come siamo messi con le finanze? Malissimo. Ok, stanno arrivando. Stanno arrivando. Molto bene. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa del tipo... Eh no. Non c'è niente che io possa fare. Qui. O bloccate o costano troppo. Quindi... Dovrò cavarmela con quello che ho. Il rating è molto basso, giustamente. Pur satisfaction. Giusto. Poca varietà. Benissimo. Vabbè. Tante cose nuove che abbiamo visto. Ceratosaurus. Guaiangosaurus. Guaiangosaurus. Ne voglio ricercare assolutamente altri. Nell'altra isola ero arrivato... Ah. Ah, ok. Eh? Triceratopo. Questo. Vai. Vabbè. L'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto. E stanno bene così dove stanno. Aspetta. Unità ECU ce l'ho? Oh, porco mondo. Non ho l'unità ECU. Oddio. Ma non me ne ero reso conto. Come vanno le finanze? Ancora male, vero? Eh, eh. Devo, devo sperare... Eh. Devo spendere tutti i soldi che ho. Allora, cominciano le missioni e le stavo aspettando. L'unico problema è che, dannazione, anche le spedizioni costano. Non ho neanche il centro di spedizioni. Però scusa un attimo. Ma... Posso comunque andare... Anche... Ah, le missioni dipendono. Cioè, sono diverse per ogni isola, giusto? Eh, immagino di sì. Va bene, allora. Comunque, sono tornato finalmente a fare profitti. E la cosa è ottima. Qui il Ceratosaurus... Sta... Per essere rilasciato. Vediamo un po' come stanno i dinosauri. Stanno bene, mi pare. Struzio Mimus. Foresta appena appena... Quanta gliene serve, eh. Forse è il caso di farne un pochettino di più, effettivamente. Perché ho un po' più esagerato a toglierla. Vabbè. Vado un pochettino di più. Speriamo che... Esattamente tutto quello che gli serve. Cibo e acqua c'è a disposizione. Il Triceratopo qui sta mangiando. Sta tanto bene. Aspetto giusto giusto. Ah, qui ce n'è un altro. Perfetto. Ok, adesso arriva. E dovrebbe comunque bastare lo spazio per voi tutti. Adesso aspetto solo il Ceratosaurus. Eccolo qua. Dai che arriva. Questo dovrebbe attrarre molti più visitatori. Vai. Questo me lo voglio vedere però, ragazzi. È molto simile al mio preferito in assoluto. Il che vuol dire che, dicendolo, ve l'ho anche giustamente spoilerato. Perché io sono furbo. Non si ruggisce così. Il ruggito vero è un altro. Tu sei falso. Vai. Non è questo il ruggito che vogliamo sentire. È vero, ragazzi? Sì. Allora. Il Ceratosaurus sembra stare piuttosto bene. Eccolo qua Grassland, come ce lo sapevo. Il Ceratosaurus non ama moltissimo la foresta, effettivamente. Quindi noi ne leviamo parecchia. E vediamo un po' se Grassland è giusto, giusto quella che vuole. Aspetta, la foresta? Ne vuole poca. Gli sta bene. È proprio lo spazio che è poco. Però è sufficiente per adesso, quindi non stiamo a farci troppi problemi. L'acqua c'è, il cibo per lui c'è, quindi non vedo perché preoccuparci. Adesso, però, una cosa che voglio assolutamente fare è... Quattrocento mie. Quando cavolo li faccio sti soldi, io? ACU Center, questo è importantissimo. Perché, cioè, se un dinosauro impazzisce non posso tranquillizzarlo e riportarlo là. Questo è un problema. Mi servono più soldi, quindi... Vabbè. Appena è possibile fare qualcuno di questi shop, comincio subito a farli. Ma proprio subito. I visitatori ci sono, comunque. Stanno arrivando. Anche se è lenta la cosa. I profitti li sto facendo. Profitti è 45.780. E non sarebbe neanche male, a dire la verità. Non sarebbe neanche male. Vingallery è frequentata? Sì. Oddio, dov'è? Ah, beh. Ok. Bene. Un attimo, mi era preso un colpo. Allora, ci sono due Sturziomimus e un Triceratopo qua. C'è per caso la possibilità che io possa fare un... No. Eh, 210.000. Aspetta, Edmontosaurus 170.000. Mi sa che posso quasi farlo. Perché questo sì che attrarrà più visitatori. La prima cosa è la varietà di Dinosauri. Io volevo fare qualche shop per prendere qualche soldino in più. Il che avrebbe anche senso, però io credo che in questo contesto la varietà di Dinosauri sia più importante. Ehm... Sto per raggiungere il rating di 1. Ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'. Com'è giusto che sia, ragazzi. Ok. Ci siamo. Edmontosaurus, vai. Cavolo, ti prego non fallire. Perché potrebbe anche fallire, ragazzi. L'abbiamo già visto. O se non l'abbiamo visto ve lo spiego adesso. Perché non mi ricordo se era già nella seconda puntata. L'incubazione dei Dinosauri può fallire. E... La percentuale di fallimento dipende dalla qualità del genoma. Se ne ho trovato tanto, effettivamente è molto più probabile che il Dinosauro nasca, che la creazione vada a buon fine. Se invece il genoma è poco superiore al 50%, giusto giusto a permettermi di farlo, la creazione potrebbe anche fallire, facendomi perdere tutti i soldi che ho speso per farlo, il Dinosauro. Virgola dannazione. Oh, visitatori ce ne sono un bel po'. Capisco che il parco sia un po' misero ancora, effettivamente. Però... Dai, datemi tempo. Un po' per volta. Migliorerà. Vediamo un po' com'è il profitto. 41.848. E... Vediamo un po'. Visitor Center Profits. Non so neanche cosa diavolo sia. Ah, il centro visitatori. Oh, ma questo ha voglia. Abbiamo tanti edifici da scoprire, ragazzi. Guardate qua. Innovation Center, Security Center, Science Center. Eh, eh, eh. Sono tante belle cose. Allora, un'altra cosa che devo tenere sott'occhio è Storm Defense Station. Perché se arriva un cavolo di... di temporale o qualcosa del genere... Oh, è arrivato. Vai, rilascialo. Non ti voglio vedere perché sei veramente brutto. Effettivamente. Spero che tu sia a tuo agio qua da queste parti perché non c'ho proprio voglia di... rifare qualcosa di nuovo adesso. Ho bisogno di denaro. Ah, 45.000 mi sa che è salito. 48, sì, sta salendo. Decisamente perché, ripeto, la varietà di dinosauri è la prima ragione di attrazione del parco. Quindi, bene così. Ma adesso sono troppo, troppo, troppo a rischio. Quindi... Storm Defense. Assolutamente. C'ho una paura terribile perché mi ha proprio avvertito. di questa cosa. Bene. Ma la tempesta può abbattere anche le recinzioni? Spero di no perché sennò è un disastro maledettissimo. Purtroppo, devo dire che ho speso un pochettino troppo a inizio gioco. Sarebbe stato meglio essere un po' più prudente. Però... Bene. Allora, consuma energia elettrica. Ma l'energia elettrica è l'unica cosa di cui non ho... ne ho in abbondanza perché ho fatto due power station forse un po' senza motivo, effettivamente. Dannazione. Ok. Allora. Adesso. Com'è il Ceratosaurus? Sta bene. Se solo avessi un control room, una panoramica dello stato dei dinosauri, per esempio. O dello stato dell'energia. Questo è veramente strano. Ah. Facility not built. Expedition map. Giustamente. Giustamente. Però adesso i profitti stanno aumentando. decisamente sì. Quindi. Ehm. Vediamo un po'. Posso fare qualcosa del genere? Vabbè. 130.000. Fast food. 170.000. Vabbè, dai. Dovremmo quasi esserci. Tutto quello che spendo adesso deve essere per la mia sicurezza e per guadagnare più denaro. Allora. Per la mia sicurezza quindi mi viene in mente che ACU Center, però costa 400.000. Mi sa che faccio prima a costruire qualcosa del genere. Ah. Ecco qua. Clothes shop. Come too expensive. Vabbè. Vai, vai. Bene. Questo mi farà guadagnare dei soldini extra. Perché il profitto al momento a 53 deve essere più alto. Assolutamente. Grazie a Dio c'è lo shelter di emergenza già costruito. Perché se dovesse succedere qualche casino non devono morire i visitatori. Bene. Mi sta dicendo che il margine di profitto è buono. Continua così. Molto bene. Però il parco è ancora... È ancora veramente in, tra virgolette, pessimo stato perché ci sono pochissime cose. Andiamo. Che è sta roba. Qualcuno di voi mi aveva detto, ma servirà a costruire due Amon Creation Lab. No? Eh. Io mica ci avevo pensato a questa cosa che doveva essere evidente. Dividi erbivori e carnivori. No? Invece no. Ne ho fatto uno solo. Ho fatto un recinto separato. Così ogni volta che usciva un carnivoro tentava di attaccare gli altri e lo dovevo tranquillizzare e portare all'altra parte. Una cosa veramente stupida. Ahah. Pensandoci. Però... Vabbè. Insomma. È andata così. Prima di fare questa missione mi ci vorrà un bel po', ragazzi. Allora. I profitti adesso sono... Aumentati? Mh. Secondo me mica tanto. 53... Sì. Attraction Revenue... 93... Non... È la vendita dei biglietti la stragrande maggioranza... Abbiamo un nuovo offerto qui che dovresti sicuramente guardare. Allora, abbiamo un'altra missione che è quella di portare al 60% il genoma del Dracorex. Questo unito a quest'altra missione, che è quella di completare le spedizioni, direi che è perfetta. Solo che... Mmmh. Vediamo. Cosa posso fare? Viangosaurus 210.000, vero? Già. Porca miseria, ho speso troppi soldi. Vediamo un po' le altre cose. Fossil center 400.000. Sto guadagnando troppo poco... Expedition center... Ma... Purtroppo per la maggior parte è un costo. Non è solo il costo di costruzione, è anche il costo delle spedizioni che devo fare. Il genoma che trovo comunque ha un costo, perché è un costo estrarlo. E a meno che non trovi qualcosa che non è resina o fossili, è un costo lavorarlo per ottenere genoma. Se invece non trovo quelle, trovo delle cose che possono essere vendute, allora sì. Ma per adesso devo concentrarmi sul... Beh, secondo me sul fare dinosauri. Beh, comunque allora, il profitto 61 si è alzato... Si, questi edifici non è che aggiungano poi così tanto. Però forse aggiungono comfort. E infatti, e infatti, questo è più per il comfort che altro. Va bene, non è tanto per i guadagni. Bene, ok, adesso l'ho capita. Facciamo una cosa. Puntiamoci qua. Eccolo qua, a posto, vai. Spendiamo tutto quello che abbiamo, subito. Dopodiché, ragazzi, tocca aspettare. Oppure fare Struzio Mimus fino a che non... Ne dubito che funzionerà a lungo termine. Trae giusto giusto fare... Vabbè, potrei farne un altro, effettivamente. Anche perché poi il resto sono tutte specie che... Eh sì, facciamolo, va. Devo fare più dinosauri possibili compatibilmente con il loro comfort. Perché non vorrei che questo spazio fosse troppo piccolo per così tanti dinosauri. Secondo me no, eh. Però... Si sa mai. Il Ceratosaurus sta benissimo. Oh no! Ah, grazie a Dio. Ha fallito l'ostruzio mio. Vedete? Vedete? È fallita... Incubation qua. E devo scartarlo, purtroppo. Posso però rifarlo. Perché 30.000 adesso li guadagno abbastanza velocemente. Non è molto, però è un primo passo. Si è passati a 61.000. Adesso, secondo me, quando esce fuori l'Uaiangosaurus, la cosa migliorerà. Coraggio, coraggio, coraggio. Perfetto. Benissimo. Adesso i profitti erano a 61.000. Adesso, con il rilascio di questo nuovo dinosauro... Ammesso che stia bene, dannazione. Lo vediamo subito se sta bene. Foresta, troppo poca, troppo poca. Ok, facciamone un po' di più. Rilascio anche questo. Ok, un pochino più di foresta. Non tanta, un pochino. E ha anche senso, effettivamente. E porca miseria l'ho fatta proprio nel punto più sbagliato, forse. E questi li voglio vedere qua. Allora, Edmontosaurus. Allora, Uaiangosaurus, come stai messo? Ok, foresta e... Vabbè. Vabbè. Diciamo. Diciamo. Un pochino di più. Dai, sta proprio... Sta proprio pelo pelo. Poi però non vorrei che gli altri avessero troppo poca erba. Cioè, troppo poca... No, vabbè, non è. Perfetto. Perfetto, perfetto. E il profitto è salito. Abbastanza. Non tutto questo che però... Un pochettino sì. Va bene, ragazzi. Allora, io... Terminerei qui questa terza puntata che vi ho fatto aspettare. Effettivamente perché, purtroppo, il gioco crashava a ripetizione. Ma come vedete, adesso non crasha più. E non potete capire quanto sono felice perché ieri ho penato terribilmente. Va bene, ragazzi. Quindi, il parco è ancora molto spoglio. C'è ancora tantissimo da fare su questa nuova isola. Però, adesso, piano piano, stiamo andando nella direzione giusta. Con il profitto necessario per fare tante belle cose. Va bene, ragazzi. Quindi, io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E, qua sotto, lasciate un bel like. Ricordatevi a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. D'accordo, ragazzi? Noi ci vediamo domani con la prossima puntata. A presto.